Se Bormio ha il centro nivo meteo di Arpa Lombardia lo deve anche a Giovanni Peretti, responsabile della sede valtellinese, da oggi in pensione. La sua carriera dopo la laurea in geologia è iniziata 36 anni fa come volontario per un paio di mesi, poi l'assunzione come dipendente dell'allora nucleo valanghe di Regione Lombardia. Tra le esperienze vissute Peretti si commuove quando ricorda la catastrofe della frana della Valpola nella sua terra tanto amata. È stato lui a coordinare il gruppo di controllo della frana per due anni. Dopo due giorni che ero rientrato dal militare ho ricevuto una telefonata. Mi volevano in una multinazionale in geotermia e mi avrebbero pagato molto bene, cercavano un gioco. 12 milioni. Eh sì, e io avevo le radici come i larici piantate in questa terra e quindi ho deciso di rimanere qua. Lei ha avuto un ruolo di primo piano quando purtroppo nel 87 c'è stata la frana della Valpola. Già nei giorni prima 600 frane avevano bersagliato il territorio. L'unico ufficio della Regione è a Monte della Frana. Non c'era la protezione civile regionale, non c'era il centro monitoraggio geologico che è stato creato negli anni successivi, negli anni 90. E quindi l'allora prefetto straordinario Gomez, si chiamava, mi aveva incaricato di coordinare un gruppo di 150 ragazzi, tra cui tantissimi, una cinquantina, proprio di, ho voluto io, di Sant'Antonio Morignone, il paese che era stato distrutto dalla frana, e coordinarli per tutte le attività, diciamo, di osservazione, di rilevamento. Sotto quella frana tanti amici? Sotto quella frana degli amici e dei parenti. Cosa non dimenticherà mai di quei giorni? Ma, non saprei dire, sono talmente entrati nella pelle. Appassionato di montagna, di ricerca nivologica e studio delle valanghe, tra i traguardi raggiunti sicuramente la costruzione nel 2013 della bellissima sede del centro di Arpa Lombardia di Bormio. Ci siamo messi a studiare un ghiacciaio tipo, tutti i mesi da vent'anni a questa parte, e siamo andati su quel ghiacciaio negli stessi punti a fare gli stessi rilevamenti. Quindi abbiamo una serie storica di vent'anni che al mondo non ha nessuno. Cosa farà da domani Giovanni Peretti? Innanzitutto, quieto un po' la mia mente, e poi me ne vado un po' ancora sulle mie montagne.